RECO RECO, devi incontrare il mio contatto, Luce, a Vigilator Nord. Può aiutarti a trovare lo scanner per il Bavarium. PreС RECO, e' la vostra hiera chemistry. Perché? Grazie per la visione! 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 Grazie! Grazie per la visione! 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 Agh! Grazie per la visione! Agh! Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Viva! Devi mettere lo scanner su una delle tre grate a Cima Leon. Il dispositivo cercherà tracce di Bavarium raffinato. Sì, sì, sì. Sbrigati. Dobbiamo proprio discutere dei tuoi progetti, Dima. Rico, ti serve quello scanner, amico. Che controlla il Bavarium, controlla Medici. Sì, e scommetto che con quello scanner posso convincere l'agenzia ad aiutare i ribelli. Vedrò cosa posso fare, Sharon. Ti hanno individuato, Rico. Arrivano i soldati. Ci penso io a loro. Grazie a tutti. D'accordo, sono qui. Bene, posiziona lo scanner sulla grata vicino al silo. Se troviamo tracce di Bavarium raffinato, vuol dire che Viravello potrebbe averlo usato per armare delle testate molto pericolose. Sperto il Bavarium raffinato. 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 Grazie.